Lo scorso giugno il GUP, il giudice per l'udienza preliminare di Milano, Giuseppe Vanore, ha condannato i fratelli Enrico e Giovanni Bellavista e il padre Renato, appena comprese tra due anni e otto mesi e quattro anni di reclusione, per le accuse di estorsione e tentate estorsioni in concorso, ai danni del rampollo della famiglia Agnelli nel processo con al centro un cosiddetto video ricatto. Nelle motivazioni della sentenza si legge che l'apo Elkan, nel momento in cui era stato ripreso, era in stato confusionale ed era stato condotto all'interno di un'abitazione ovvero era stata creata d'arte una situazione compromettente. L'imprenditore era stato avvicinato per strada a Milano da Giovanni Bellavista, che vedendolo in stato confusionale lo avrebbe convinto a seguirlo a casa sua. Lo stesso Elkan aveva messo verbale nella sua denuncia di aver bevuto molto quella sera. Nell'appartamento poi i due fratelli avrebbero realizzato un video con il cellulare, nel quale l'apo appariva seminudo e vicino a delle piste di cocaina stese su un tavolo. Nei giorni successivi è iniziato il ricatto con la minaccia di vendere il video a settimanali o anche di divulgarlo sul web. Incassato una prima tranche di 30.000 euro, i due, con la complicità di un paparazzo, avrebbero alzato la posta. Dopo la denuncia di l'apo poi sono scattati gli arresti. Secondo il Gup, l'intenzione inequivocabile dei due fratelli era quella di approfittare della situazione in cui versava l'Elkan con una messa in scena creata da Giovanni ed Enrico all'interno dell'appartamento. Il nipote di Gianni Agnelli venne fatto accomodare su un divano, scrive il Gup, e su un tavolo dinanzi a lui era stata posizionata dalla polvere bianca. La situazione, spiega ancora il giudice, era evidentemente compromettente e di questo erano coscienti i fratelli Bellavista che, verosimilmente, erano anche conoscenze della drammatica vicenda di cronaca riguardante l'apo, avvenuta nel 2005 a Torino, di cui gli organi di stampa avevano dato ampia diffusione. Il Gup ha anche riconosciuto una provvisionale da 50.000 euro come risarcimento a favore di l'apo Elkan, parte civile nel procedimento.